Le indicazioni della quarta giornata. In chiave positiva, grazie alla doppietta di Nonno Ibra, Milan in testa solo a punteggio pieno. Il Sassuolo 13 gol dietro i rossoneri. A Bologna protagonisti giurici c'è caputo. Il Napoli è travolto l'Atalanta, Lozano due gol, Osimian in evidenza. La Roma, grazie a Dzeko e Pedro, ha battuto un benevento con la peggior difesa. In chiave negativa, travolta l'Atalanta a San Paolo e la Lazio sul campo della bella Sampdoria. Inter betta lontana e difesa fragile. Juventus a Crotone non al meglio, Di Bala scontento, calabresi galvanizzati dal gol di Simi. Chiesa espulso all'esordio. Buone rimonte dello Spezia e del Cagliari. Doppiette di Belotti e Simeone. Granata ultimi. Sarri a Firenze vedremo. L'Udinese gol e vittoria sul Parma. Stasera Verona-Genoa. 41 gol in 9 partite. Ora le coppe che gli dei del calcio ci assistano.